leggo luca 2 versetto 4 7 questo fu il primo censimento fatto quando no scusate sbagliato dalla galilea dalla città di nazareth anche giuseppe salì in giudea alla città di davide chiamata betlemme perché era della casa e famiglia di davide per farsi registrare con maria sua sposa che era incinta mentre erano lassi compì per lei il tempo del parto ed ella diede alla luce il suo figlio il suo figlio primogenito lo fasciò e lo coricò in una mangiatoia perché non c'era posto per loro nell'albergo leo in lucas capítulo 2 versetto da 4 al 7 e josè subio di galilea della città di nazareth a giudea alla città di davide che si chiama belen per quanto era della casa e famiglia di davide per essere impadronato con maria sua e lo insieme alla città di donna che è stata incinta e consentite i conoscendo che stanno stando ericere all'albergo si coperano gli due giorni di davvero l'albergo di davvero di lui studia per l'albergo dell'albergo da loro e lo posero in completamente perché non c'era un lugar per loro nel mezzo. Amén. Preghiamo. Signore Dio Padre nostro Creatore nostro e nostro Salvatore siamo qui per dirti che ti vogliamo bene e che apprezziamo tutto quello che tu hai fatto per noi vogliamo adorarti come nostro Creatore ma vogliamo adorarti come nostro Salvatore perché hai donato qualcosa di straordinario di immaginabile il tuo amato Figlio che come abbiamo cantato i nostri cuori la nostra mente i nostri occhi si possano aprire verso questo grande dono e farlo diventare nostro per poterlo respirare nella nostra quotidianità e poi poterlo trasportare verso gli altri per raccontare le grandi cose che tu fai per noi. grazie per questo grazie per il sabato grazie per questo appuntamento speciale ma grazie anche perché tu sostieni ognuno di noi sostieni i nostri ammalati coloro che hanno delle difficoltà e che sono rimasti a casa a loro una preghiera e un pensiero per poter essere vicini anche a chi in questo momento sente il peso della malattia o della solitudine. Grazie per quello che tu farai e rendi i nostri cuori le nostre orecchie i nostri occhi i nostri piedi le nostre mani rendili sensibili e aperte verso chi ha bisogno. Te lo chiediamo questo nel nome di Gesù. Buongiorno Allora oggi ci sono tre cose da augurare buongiorno buon sabato e buon anno visto che è il primo sabato in cui ci incontriamo qui in chiesa e siamo felici di aver questo privilegio così come siamo felici di poter comunque condividere questo momento oltre che qui in questo luogo essendo presenti e godendo del comfort delle nostre panche anche di poterlo condividere con chi da casa ci segue via streaming perché oggi siamo privilegiati abbiamo la possibilità di fare anche questo una volta chi rimaneva a casa rimaneva da solo ecco bene oggi si conclude si conclude un periodo che è il periodo delle feste più concentrato dell'anno abbiamo cominciato con il Natale e adesso abbiamo poi festeggiato il nuovo anno e adesso oggi sarebbe il giorno dell'Epifania e io credo che sia opportuno che concludiamo anche un nostro percorso di riflessione sul significato di questi momenti che abbiamo vissuto perché in realtà non riflettere su ciò che ci succede succede nella nostra vita a partire dalla parola di Dio significa perdere completamente di vista quello che è la funzione di questa parola quello che è il ruolo di questa parola e perdere completamente di vista il senso di quello che noi veniamo a fare qui mi dispiace deludervi ma se siete venuti qui semplicemente perché siete abituati che il sabato mattina dalle undici a mezzogiorno venite a scaldare questa panca perché è così che bisogna fare così che ci hanno abituato a fare beh vi dico sinceramente che state perdendo tempo magari lo potreste usare molto più utilmente rimanendo a casa o andando a fare altre cose perché in realtà in realtà questa è la verità la sostanza cioè noi siamo venuti qui per per un motivo un motivo specifico che deve coinvolgere che coinvolge le nostre vite le nostre esistenze in modo sostanziale e non perché è un'abitudine allora questa mattina vorrei un pochino far emergere come l'abitudine in qualche modo che è una cosa per altri versi buona per la nostra vita come esseri umani perché le abitudini hanno anche il vantaggio di farci risparmiare tempo se noi dovessimo tutte le volte decidere di compiere un'azione quando dobbiamo fare qualcosa ci metteremmo un sacco di tempo a fare l'elenco dei pro e dei contro e poi prendere la decisione l'abitudine è quel meccanismo che ci dice una volta che io ho fatto l'elenco dei pro e dei contro una volta e che so che quel tipo di comportamento è opportuno io vado avanti per abitudine e ci fa risparmiare tempo quindi non è poi così male però l'abitudine è anche un po' traditrice perché perché quando comincio a fare le cose per abitudine non penso più a quello che sto facendo e magari faccio una piccola variazione rispetto a quello che sto facendo rispetto a quello che avevo fatto all'inizio e quella variazione però sedimentandosi con altre variazioni trasforma completamente il significato di quello che stavo facendo e questo è il nostro guaio è il nostro problema perché un'abitudine da credente può farci diventare miscredenti e questa è la ragione per la quale in questo luogo non vi consiglio di venire per abitudine e allora volevo come dicevo riprendere un po' il racconto della natività su cui abbiamo parlato abbiamo riflettuto diverse volte in queste settimane per per riflettere e per eventualmente anche individuare dove le abitudini possono averci ingannato e per poi ritrovare il significato il significato profondo di quello che è questa storia che ci è stata raccontata allora ripartiamo da da questo testo in cui ci viene detto in Luca 2 che Giuseppe salì in Giudea la città di Davide chiamata Betlemme perché era della casa della famiglia di Davide per farsi registrare con Maria sua sposa che era incinta e mentre erano là si compì per lei il tempo del parto ed ella diete alla luce il suo figlio primogenito lo fasciò lo coricò in una mangiatoia perché non c'era posto per loro nell'albergo questo testo sul quale abbiamo riflettuto e che ci ci ha dato modo di capire che era il regalo più bello e che poteva ispirare in noi l'idea del regalo più bello è stato poi rielaborato nel nel racconto che ci è giunto dal Nuovo Testamento che ci è giunto dal Nuovo Testamento e in questo racconto ci viene detto ci vengono dette una serie di cose molto importanti e abbiamo visto che quella quel bimbo in una mangiatoia che era figlio di Dio ha permesso a noi diventare a nostra volta figli di Dio e quindi abbiamo questo testo di Galati che ci dice così anche noi quando eravamo bambini eravamo tenuti in schiavitù dagli elementi del mondo ed essendo stati liberati da Gesù Cristo quando giunse la piedezza dei tempi Dio mandò suo figlio nato da donna nato sotto la legge quello che abbiamo letto in Luca per riscattare quelli che erano sotto la legge affinché noi ricevessimo l'adozione e aggiunge Paolo perché siete figli Dio ha mandato lo spirito del figlio suo nei nostri cuori che grida Abba Padre ora tutte queste espressioni sono espressioni che noi definiamo teologiche in realtà la Bibbia non è un libro teologico la Bibbia è un libro che ci racconta della storia di uomini e ci racconta della storia e di donne e ci racconta la nostra storia e già nel nel testo che abbiamo letto di Luca questo testo che è il testo che fa da sfondo alla natività e come abbiamo detto al 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 Natale questo testo in realtà presenta una serie di problemi una serie di problemi perché ci dice per esempio che Maria non ha trovato un posto adeguato dove partorire il racconto della nascita di Gesù nella stalla ha qualcosa di significativo da questo punto di vista cioè ha un elemento di complessità che uno forse non si aspetterebbe da un testo cosiddetto teologico no? è possibile che il figlio di Dio il salvatore del mondo il re dei re possa nascere in una stalla e perché non nasce in una stalla non nasce non nasce in un albergo nasce in una stalla perché perché c'era in atto un censimento al tempo di un determinato imperatore che ha costretto tanta gente a muoversi da una città all'altra quindi un fatto eminentemente storico eminentemente calato nella realtà delle cose che sono accadute in quel momento ma la realtà delle cose che sono accadute in quel momento noi la conosciamo veramente per esempio nel racconto della natività nel nostro racconto oggi per esempio parliamo dell'epifania che sarebbe il giorno in cui arrivano i magi in effetti non sappiamo esattamente la data in cui sono venuti i re i magi non sappiamo neanche esattamente la data del natale no questo ce lo siamo già detti ma per esempio quanti erano i re i magi questo lo sappiamo quanti erano ecco bene grazie allora se qualcuno vuole cortesemente trovarmi il testo biblico dove c'è scritto che erano tre i magi eh mi trovate il testo dove c'è scritto che erano tre i magi io eh non ho capito sì allora io l'unico testo che conosco se mi fate andare avanti grazie è questo che ci dice che Gesù era nato a Betlemme di Giudea all'epoca del re Erode e che vennero dei magi d'Oriente arrivarono a Gerusalemme dicendo dicendo dove è il re dei giudei che è nato perché noi abbiamo veduto la sua stella in Oriente e siamo venuti ad adorarlo quanti erano i magi eh tre erano dei re magi erano dei magi poi non si sa nemmeno se erano dei re no erano magi ok e poi il nostro testo ci dice scusate eccolo qua il nostro testo ci dice che udito quello che gli diceva il re partirono e la stella che avevano vista in Oriente andava davanti a loro finché giunto al luogo dove era il bambino si fermò sopra quando videro la stella si rallegrarono di grandissima gioia e entrati nella casa videro il bambino con Maria sua madre prostatisi lo adorarono e aperti i loro tesori gli offrirono dei doni oro incenso e mirra già forse sono queste tre cose che fanno dire che erano tre i magi però potevano essere due potevano essere dieci anche perché l'oro l'incenso e la mirra in realtà erano dei doni legati a l'omaggio che si facevano a delle persone importanti ai re in particolari e Gesù era un re e quindi non è detto che ognuno portò una cosa è detto solo che portarono questi tre doni quindi i magi non erano tre facciamo un passo indietro dove è nato Gesù eh? in una stalla ha nato Gesù è nato in una stalla Gesù eh? sì eh sì io però vi debbo deludere perché in realtà non è mai non si parla mai della stalla si parla di una casa scusate eccola qua i re magi entrarono in una casa e poi si dice nel versetto che abbiamo visto all'inizio torniamo indietro che lo pose in una mangiatoia e allora dalla mangiatoia si suppone che potesse essere in una stalla ma siamo sicuri che fosse una stalla non siamo neanche sicuri che fosse una stalla anche perché le abitazioni di quell'epoca andiamo avanti torniamo dove eravamo prima le abitazioni di quell'epoca erano strutturate molto diversamente dalle abitazioni che abbiamo oggi i contadini oggi hanno la casa e la stalla cento anni fa avevano la casa e la stalla e mille anni fa probabilmente avevano la casa ed era probabilmente anche la stalla o comunque c'era una coabitazione molto forte l'albergo non dobbiamo immaginare Lilton no e neanche la pensione Valeria della Riviera non erano così gli alberghi gli alberghi erano sostanzialmente quelli nei quali si ospitavano le carovane di viaggiatori ed erano delle sorti di grandi cortili dove c'era il riparo per le bestie ma c'era anche il luogo dove dormivano le persone era un contesto sensibilmente diverso quindi Gesù non è non è nato in una stalla e l'altra cosa interessante quanti e quali animali erano in questa presunta stalla in questa presunta stalla in cui sarebbe nato Gesù avete trovato quanti e quali animali erano in questa stalla dunque vedo che non c'è più nessuno che risponde allora Gesù non è nato probabilmente in una stalla è nato era in una casa i magi non erano tre erano diversi allora a questo punto vi viene il dubbio anche che non ci fosse il bue l'asinello c'erano degli animali è possibile è possibile come ci dice e come mi assegno qualcuno di là che ci fosse l'asino perché era la cavalcatura con la quale si viaggiava e immaginiamo con difficoltà che Maria possa aver viaggiato a piedi dalla Galilea a Betlemme e quindi sicuramente aveva un mezzo di trasporto però il Vangelo degli animali che erano lì con Gesù è quello che ho detto prima esatto ho detto immaginiamo che l'asino ci possa essere perché difficilmente Maria difficilmente Maria ha ha fatto il viaggio a piedi come può aver fatto Giuseppe dalla Galilea a Betlemme e andiamo per deduzione però in realtà in realtà il bue e l'asinello non c'erano e il Vangelo non ce lo dice e non ho potuto mettere nessun testo perché non c'è nessun testo che lo dice allora in compenso il Vangelo ci dice altre cose e anche questo è molto importante da rilevare il Vangelo ci dice per esempio che quando Gesù nasce è un periodo storico molto preciso no quando Gesù nasce è un periodo storico estremamente preciso un periodo storico al quale si può risalire andando a consultare gli archivi perché Gesù nasce nel tempo in cui ci fu un decreto da parte di Cesare Augusto che ordinava il censimento di tutto l'impero e questo censimento fu il primo fatto quando Quirino era governatore della Siria cioè è come dire se fossimo oggi che Gesù nasce quando Trump aveva appena vinto le elezioni negli Stati Uniti e Macron era presidente della Repubblica Francese mentre in Italia si era sciolto il Parlamento e si dovevano procedere a delle nuove elezioni cosa voglio dire con questo che noi del racconto della Natività abbiamo conservato che cosa e avevamo in testa che cosa gli elementi favolistici diciamo così certo anche quelli degli elementi che erano legati alla all'umanità ma degli elementi che parlano un po' alla fantasia piuttosto che alla cronaca della storia e questo è uno dei problemi rispetto al Natale perché noi rischiamo di celebrare il Natale ed è per questo che noi celebriamo il Natale in modo diverso noi rischiamo di celebrare questa festa facendo riferimento a quegli elementi che abbiamo nella testa perché la nostra cultura la nostra educazione ce li ha inculcati e poi rischiamo di perdere di vista la sostanza di questo racconto di questi fatti la nascita di Gesù non è una favola non è una fantasia è un fatto storico la nascita di Gesù è un qualcosa che ha determinato la storia a tal punto che oggi noi la dividiamo in due a partire da quel momento noi siamo nel 2018 da sei giorni 2018 ma per essere precisi cosa bisogna aggiungere dopo Cristo la nascita di Gesù è un fatto concreto storico e se ci fossero stati i giornali se ci fossero stati i giornali avremmo avuto sui giornali che notizia vediamo un attimo se riusciamo ad adattarla che notizia ci sarebbe stata allora censimento su grande titolo Cesare Augustin dice censimento e quindi annuncio la politica eccetera e poi nella cronaca eh l'anno zero Daniele l'anno zero ancora non se ne erano resi conto grande afflusso di persone e poi ancora oggi oggi che è l'epifania arrivati a Gerusalemme tre stranieri provenienti dall'Oriente eh no no invece ci sarebbe state perché dove andarono loro eh andarono dal re andarono dal re è quello quello che oggi quello che riguarda il re se oggi arrivano tre stranieri e vengono in visita ufficiale in Italia sui giornali se ne parla sono andate a trovare il presidente Mattarella e nei colloqui si è parlato del fatto che loro ritengono che sia nato un nuovo re per Israele oh ma questo è una notizia da prima pagina dei giornali eh è così pesante questa notizia allora che poi tra l'altro ci sono i commentatori però gli scrivi i dottori della legge dicono che effettivamente eh a Betlemme doveva nascere secondo i profeti un personaggio così ma è così pesante questa notizia che cosa succede che cosa succede dopo che Gesù è nato ma ve lo ricordate ma è un fatto politico determinante ce lo ricordiamo non è mica una storia non è mica una storia da raccontare ai bambini era anche l'adempimento della profezia però al di là della profezia è vero è vero perché la profezia diceva sia dove sarebbe nato sia che ci sarebbe stato una strage è vero ma è nella cronaca è un fatto terribile perché il re decide di eliminare di sterminare tutti i bambini maschi da zero a due anni la nascita di Gesù è un fatto concreto reale ed è un problema è un problema da tanti punti di vista è un problema per Erode è un problema per Erode perché in un regno non ci può essere un altro re e per contendersi il trono c'è gente che ammazzava figli madri padre figuratevi se un re esita ad ammazzare dei neonati con cui non ha niente a che fare la nascita di Gesù è un problema ma non è solo un problema dal punto di vista politica la nascita di Gesù è anche un problema dal punto di vista personale Maria era vergine il Vangelo ci dice decisamente sì ma poi ed è questa la cosa che noi dobbiamo andare a cercare nella Bibbia ma poi il Vangelo ci dice che Maria non è rimasta vergine cioè la storia è una storia vera concreta è una storia che ha avuto delle conseguenze materiali sulle persone e il Vangelo ha la consapevolezza di tutto questo perché cosa ci dice ci dice che quando viene annunciato viene annunciata la nascita di Gesù a Maria a Maria la prima cosa che viene in mente è e lo abbiamo detto anche sabato scorso cosa viene in mente a Maria sabato scorso che abbiamo detto sabato scorso quando l'angelo gli dice ecco tu rimarrai incinta e partorirai magari erano un po' più ignoranti di noi magari ci mettevano un po' più di tempo di noi a saperlo forse dei nostri bambini ma per poter mettere al mondo un figlio bisogna avere un rapporto un rapporto sessuale scusate se sono così concreto ma è la verità e Maria dice ma come faccio io che non ho avuto ed è una bella domanda questa ed è una bella domanda abbiamo detto sabato scorso è una domanda anche che riceve una risposta particolarmente particolarmente inquietante e scusate facciamo un passo indietro era un problema anche perché Maria non era sposata e quindi la nascita di Gesù è un problema per Maria perché dice come faccio io a rimanere incinta secondo era un problema perché Giuseppe dice adesso questa come la gestisco no? cioè ma ci pensate cioè se anziché raccontarci la favola bella di Gesù che nasce pensiamo alla realtà dei fatti questi sono i fatti Maria rischiava la lapidazione e Giuseppe Giuseppe aveva deciso di cercare di evitare questa cosa perlomeno dice come un po' come Pilato me ne lavo le mani cioè io me ne vado alla chetichella poi se scoprono che è incinta se la vedono a lei e Giuseppe Giuseppe viene convinto da Dio che gli si rivela però voi avete avuto delle rivelazioni di Dio su delle cose da fare? Avete pensato qualche volta che Dio vi avesse ispirato a fare delle cose? sì io penso di sì anche Giuseppe l'ha avuta però ha dovuto accettare che sua moglie era incinta per opera dello Spirito Santo tra di noi vedo un calabrese credo e poi magari anche qualche romagnolo e accettare che tua moglie è incinta per opera dello Spirito Santo comunque richiede un'elaborazione richiede un'elaborazione un'elaborazione che magari il Vangelo il Vangelo ce lo dice però perché Giuseppe si prepara a fare delle cose poi ci dice Giuseppe prese Maria con sé la tenne e ci dice anche scusate non vi ho mandato avanti le diapositive non voleva esporre la infamia e dice dice che fece come l'angelo del Signore gli aveva comandato prese con sé sua moglie ed è questo però l'origine della mia domanda su Maria Vergine e non ebbe con lei rapporti coniugali finché ella non ebbe partorito un figlio cioè la storia dell'incarnazione è una storia incredibile è un miracolo una donna che rimane incinto per opere dello Spirito Santo ma non è una fantasia non è una storia costruita sull'immaginazione fertile di qualche romanziere e la parola di Dio ci invita a non seguire questa pista ma ci dice che Giuseppe Maria Gesù i Magi Erode e tutte le persone convolte erano persone in carne ed ossa che hanno vissuto quella storia realmente e che hanno continuato a vivere realmente perché Giuseppe e Maria dopo la nascita di Gesù hanno avuto dei rapporti coniugali come si hanno normalmente tra marito e moglie e quindi noi rappresentiamo diversamente la Natività dicendo che non è il 25 dicembre anche se la festeggiamo insieme agli altri ma rappresentiamo diversamente questa Natività e diciamo anche che non è solo il 25 che ce ne dobbiamo ricordare ma tutti i giorni della nostra vita perché ha cambiato la storia e diciamo anche che Maria non è rimasta Vergine perché non è quello la cosa centrale di tutta questa storia erano esseri umani Gesù era un essere umano e tutto è avvenuto nella concretezza è avvenuto nella concretezza di questa storia e il Vangelo di Luca ci dice tutta questa concretezza perché dice da buon giornalista che lui ha preso i fatti li ha archiviati e ha raccontato questi fatti dice li ha raccontati da persone che erano testimoni oculari che divennero ministri della parola e io dopo essermi accuratamente informato di ogni cosa dall'origine io te ne scrivo o eccellentissimo teofilo affinché tu riconosca la certezza delle cose che ti sono state insegnate la certezza delle cose che ti sono state insegnate capite adesso perché vi stavo dicendo che non vale la pena venire qui per abitudine è troppo è troppo poco evidente il legame la storia di Gesù è un fatto reale un fatto reale che ha trasformato la storia che ha trasformato la mia e la vostra vita e se non continuo a farlo e se noi non siamo qui per quel motivo stiamo perdendo tempo deve essere una cosa certa una cosa effettiva concreta una cosa che ci colpisce e ci trasforma ci trasforma dal di dentro questo è il più bel regalo che abbiamo ricevuto questo è il significato dell'incarnazione e dei racconti che ci vengono fatti dell'incarnazione non è permetterci di rallegrarci di gioire e di vivere di favole no certo c'è da rallegrarsi c'è da rallegrarsi perché abbiamo ricevuto un regalo un regalo bellissimo il regalo di Dio che ha amato il mondo e non è una fantasia non è una storia raccontata da degli invasati delle persone che erano al di fuori del tempo al di fuori della realtà è una storia vissuta da persone che sono state coinvolte nella realtà che hanno prodotto degli effetti nella realtà da persone che hanno subito gli effetti di questa storia e l'hanno riportata nella parola di Dio quella che noi leggiamo e cioè che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo nigenito figliuolo affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna infatti Dio non ha mandato suo figlio nel mondo per giudicare il mondo ma perché il mondo si è salvato per mezzo di Lui e e questo questo atto di Dio questo atto di Dio è quello che ci permette di avere speranza e questo atto di Dio non può essere una fantasia umana perché era inimmaginabile per un uomo pensare che Dio fosse in grado di amare l'uomo anche quando Lui non era amabile questo lo abbiamo ripetuto e continuerò a ripeterlo perché credo che culturalmente non ci entra nella testa Dio ha amato noi ognuno di noi anche quando non eravamo amabili anzi anche quando eravamo odiosi questa è l'ispirazione della parola di Dio questo è il motivo per cui noi la leggiamo è così che Dio ci ha liberati dalla condizione in cui ci troviamo e ci libera dalla condizione in cui Lui ci troviamo Dio ci ha liberati dalle tenebre e le tenebre sono tutte quelle cose che ci impediscono di vedere quanto concreto sia stato l'amore di Dio quanto concreto sia stato questo dono questo regalo bellissimo che ci ha fatto di suo figlio Dio ci ha trasportati nel regno del suo amato dice Paolo nei Colossesi in Lui abbiamo la redenzione il perdono dei peccati e Gesù è l'immagine del Dio invisibile il primo genito di ogni creatura questo è ciò che è venuto a rivelarci Gesù Cristo e questo è quello che possiamo credere su basi realistiche su basi concrete non perché ve lo sta dicendo Giuseppe Cupertino che ha una fantasia religiosa non perché ve l'ha detto vostro nonno o vostro zio o ve l'ha detto qualcuno che era un po' preso da misticismo no è un fatto storico reale è un fatto che può cambiare la vostra esistenza e la vostra vita perché attraverso l'incarnazione di Gesù Cristo Dio ci dice che ci ha salvati per grazia mediante la fede e la fede non è però un atto così difficile da compiere per cui non è la portata di tutti quanti no la fede come abbiamo visto nel racconto della natività è un fatto che si fonda su elementi ragionevoli sulla cronaca dei giornali su ciò che è successo veramente la fede che Dio ci ha fatto un dono in Gesù Cristo attraverso la sua grazia che questo sia il messaggio della natività che accompagna ogni giorno della nostra vita in questo anno e non solo e che il Signore possa nascere ogni mattina nei nostri cuori essere padrone della nostra esistenza amè ringraziando il messaggio che ci è stato dato da parte del nostro fratello Giuseppe vogliamo cantare il canto numero 479 canto numero 479 cambia il cuore mio cambia il cuore mio fa che doniamo come l'argilla io in mano a te cambia il cuore mio come vuoi te lo chiedo io cambia il cuore mio fa che il più bianco che somiglia a te fammi vincito cambia il cuore mio non lasciarmi non lasciarmi il cuore senza l'amor tuo pace non avrò fa che il potere mio tocchi il cuore mio sciolga la pietra ricreando amor tocca il cuore mio tocca il cuore mio tocca il cuore mio cambia il cuore mio cambia il cuore cambia il cuore la purezza tua metti nel cuore metti nel mio cuore che non era la portata della mente umana dell'incarnazione questo messaggio che ti dice che tu hai amato ognuno di noi quando noi non immaginavamo nemmeno di poter essere amati e attraverso Gesù Cristo si è venuto a dircelo a predicarcelo a dimostrarcelo signore aiutaci a rendere concrete queste parole del Vangelo nel nostro quotidiano tocca il nostro cuore come abbiamo cantato fa sì che la tua ispirazione possa guidarci e possa sostenerci nella vita di tutti i giorni nella quale sicuramente come le persone di cui abbiamo letto e di cui viene raccontata la storia perché sono state collegate all'incarnazione di Gesù Cristo la nostra vita la nostra storia non è semplice non è facile ma con il tuo sostegno noi sappiamo di poter andare al di là di andare oltre signore che questa benedizione della tua presenza e del tuo sostegno in quello che facciamo possa essere di compagnia per la nostra vita in quest'anno per ognuno di noi per quelli che ci ascoltano per quelli che non lo sanno ancora per quelli che sono nella sofferenza te lo chiedo nel nome di Gesù Cristo amè amè grazie a tutti Chi è re di gloria, il suo nome è Gesù È Signor dei Signori, è l'Altissimo, il suo nome è Francavere E quindi ci congediamo, ci congediamo con una parola del Signore Or lo stesso Signor nostro Gesù Cristo e Dio nostro Padre che ci ha amati e ci ha dato per la sua grazia Una consolazione eterna e una buona speranza Consoli i vostri cuori e vi confermi in ogni opera buona e in ogni buona parola Amen Buon sabato, buon anno ancora e il Signore vi accompagna E il messaggio del Vangelo era anche per te che ci hai seguito via streaming E ti auguriamo che possa riempire la tua vita, sostenerti in questo giorno come in tutti gli altri di questo anno Grazie e saluto Grazie a tutti Padre Grazie a tutti Mi svegli la mattina Mi svegli la mattina e mi segui ovunque vado Dirigendo i miei Padre Guardo un bimbo Guardo un bimbo e vedo te Guardo un bimbo e vedo te Guardo un fiore e scopro te Guardo un bimbo e vedo te Guarda un bimbo e vedo te Guardo un bimbo e vedo te con te e di stare con te, non andare via. Sempre qui, sempre qui, non è un sogno ci sia, non è un sogno, tu ci sei, per le strade e tra la gente, ogni istante di più, sei nella mente mia, padre, sei nei pensieri miei, e la mia sola speranza è di stare con te, non andare via, non andare via. Grazie. 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 Grazie.